dietro per evitare grane brutta palla qui nella terra di nessuno fa viaggiare il pallone tenta la conclusione e arriva la prima rete della giornata siamo testimoni di una prova di grande cinismo un'ingenuità sfruttata al meglio perdere palla a centrocampo è molto rischioso se sbagli un passaggio così l'errore ti può costare molto caro gol mandò nel minuto 34 il dorsale 10